Torri gemelle, si sente spesso dire non sono cadute a causa della temperatura perché l'acciaio fonde a 1500 gradi e lì non si sono mai raggiunti i 1500 gradi. Vero, anche le più avanzate simulazioni confermano che la temperatura di fusione dell'acciaio non si sia raggiunta, ma la domanda qui probabilmente è un'altra. Cosa succede all'acciaio quando è sotto stress e quando è a temperature non di 1500 gradi ma comunque elevate? Che cosa succede? Secondo le simulazioni del NIST, che è il National Institute of Standards and Technology, a innescare il crollo sarebbe stato proprio l'indebolimento dell'acciaio, non la fusione. L'indebolimento dell'acciaio in alcune zone specifiche sui piani dell'impatto, lì dove gli incendi avrebbero portato le temperature fino a picchi di 800-1000 gradi. A questo punto vi propongo di andare a vedere alcune proprietà dell'acciaio per capire come si comporta quando applichiamo dei carichi e quando facciamo salire la temperatura. Ah, volevo dirvi tre cose per chi non lo sapesse. Uno, c'è anche il podcast di Geopop su tutte le piattaforme podcast. Due, abbiamo un'app, la trovate su tutti gli store. Tre, tanti di voi guardano i nostri video anche sistematicamente, ma non sono iscritti al canale, a voi non cambia molto, ma per noi fa un'enorme differenza. Per cui, se vi va di supportare la divulgazione scientifica fatta con rigore e serietà, iscrivetevi al canale Geopop. Detto ciò, torniamo al nostro grafico. Allora, sull'asse Y mettiamo lo sforzo, come per esempio appunto il carico che potrebbe gravare su un pezzo d'acciaio. Sull'asse X invece c'è la deformazione, cioè quanto un pezzo d'acciaio si può deformare in relazione allo sforzo. Ecco, questo è un tipico diagramma, cosiddetto sforzo-deformazione, che è usato dagli esperti in materia. Questa curva rappresenta il comportamento dell'acciaio a temperatura ambiente. Ora proviamo a semplificare per capire i concetti chiave, poi potrete andare ad approfondire se volete. Fino al punto indicato sul grafico come tensione di snervamento, l'acciaio si comporta in modo elastico. Che significa? In maniera semplificata significa che se tolgo il carico applicato, l'acciaio torna come era prima. Se invece continuo ad aumentare il carico in modo proporzionale e supero la cosiddetta tensione di snervamento, l'acciaio inizierà a rispondere con una deformazione non più proporzionale. Siamo entrati nella cosiddetta fase plastica, non più elastica ma plastica, dove più continuo ad aumentare il carico, maggiormente si deformerà l'acciaio. E attenzione, dopo questo punto, dopo il punto di tensione di snervamento, la deformazione è irreversibile. Ciò significa che se tolgo il carico, l'acciaio rimane deformato, rimane piegato per intenderci, rimane deformato ma è ancora capace di reggere il carico applicato. Se però il carico continua ad aumentare, l'acciaio raggiunge il suo punto di rottura. Boom! Si spezza. Questa curva, come detto, è relativa a condizioni di temperatura ambiente, quindi siamo a 20 gradi Celsius. Ora, immaginiamo che la curva blu è a 200 gradi, la curva verde è rappresentativa dei 300 gradi e quella gialla di 500 gradi. Come vedete, più la temperatura sale e più le curve saranno basse nel grafico. Perché? Perché più sale la temperatura, più l'acciaio tende a deformarsi facilmente. Pensateci, una cosa è piegare una barra d'acciaio fredda e una cosa è piegarla riscaldandola. Se la riscaldo, si piegherà più facilmente, no? Una cosa che salta subito all'occhio di queste curve è che più la temperatura sale, quindi andando dalla curva più alta a quella più bassa, il gomito della curva diventa sempre meno spigoloso. Tradotto vuol dire che, a parità di carico applicato, quando l'acciaio si surriscalda, rispetto a quando è, diciamo, freddo, raggiunge la fase plastica molto prima. In gergo si dice che perde rigidezza, perde resistenza. In sostanza, più alta la temperatura, prima l'acciaio si deforma e prima raggiunge il punto di collasso. Secondo gli standard europei di progettazione, a 200 gradi Celsius, l'acciaio perde già il 10% della sua rigidezza, ma rientra ancora nella fase elastica. Già a 500 gradi Celsius, se il carico aumenta, la perdita di rigidezza e resistenza diventa significativa e la capacità di sopportare i carichi dell'edificio diminuisce notevolmente. A 800-1000 gradi, l'acciaio può perdere anche il 90-95% della capacità di sopportare carichi. Morale della favola, l'acciaio si indebolisce significativamente anche ben prima dei 1500 gradi. Quindi, cosa è successo all'acciaio delle Torri Gemelle? Guardando uno dei piani dell'impatto della Torre Nord, e questa è una ricostruzione sempre del NIST, la parte mancante che vedete chiaramente dall'immagine è il punto dell'impatto dell'aereo, che ha tranciato parte dell'edificio essendosi schiantato alla velocità di 700 km orari. Schiantandosi, l'aereo si è sbriciolato in meno di un secondo e il carburante si è nebulizzato generando goccioline che hanno impregnato tutti gli arredi. Gli incendi sono divampati e sono stati alimentati dal vento delle finestre rotte. Ecco, ora guardate, le parti colorate di questa immagine, che è relativa ad una delle simulazioni prodotte dal NIST, dà una stima delle temperature che c'erano lì. Le zone arancioni e rosse rappresentano temperature tra i 900 e i 1000 gradi. Secondo le ricostruzioni del NIST, quando l'aereo ha reciso le colonne, il peso si è ridistribuito sulla struttura rimasta intatta. A questo punto, sempre secondo le ricostruzioni del NIST, le turri sarebbero rimaste in piedi se non fossero aumentate le temperature all'interno dell'edificio. A perdere per primo resistenza sarebbe stato l'acciaio dei pavimenti dei piani dell'impatto. Praticamente, guardate, questa zona del telaio colorata in rosso ha perso la capacità di reggere qualsiasi carico ed è crollata. Le parti, diciamo, fredde del pavimento hanno cominciato a tirare verso l'interno le colonne perimetrali. Questo movimento verso l'interno ha praticamente annullato la capacità di quella parete di reggere il carico. A questo punto, essendo già indebolite a causa degli incendi, le altre colonne perimetrali e le restanti colonne del nucleo non hanno più retto il peso dell'edificio. In conclusione, alla luce della spiegazione sulle proprietà fisiche dell'acciaio, è facile dedurre che non è che l'acciaio deve per forza fondersi per portare al collasso una struttura. All'aumentare della temperatura, l'acciaio si indebolisce sempre di più, perde rigidezza e resistenza e quindi globalmente perde la sua capacità di portare carico o comunque perde una parte di questa capacità. Questo indebolimento è la condizione che scatena la nota crisi per instabilità. Questa crisi per instabilità è, secondo il NIST, la causa d'innesco del crollo a cascata che si è verificato, come sappiamo, durante le fasi successive all'impatto degli aerei. Detto ciò, io ci tengo molto a ringraziare l'ingegnere Gaetano Cantisani, ingegnere strutturista per la validazione tecnica di questo video e vi ricordo che ci sono altri due video, nostri video, sull'11 settembre. Uno sulla ricostruzione del crollo delle torri gemelle e uno sul crollo della torre 7. Vi lascio tutto in descrizione e nei commenti. Grazie mille per averci seguito fino alla fine e vi do appuntamento, come al solito, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie mille per averci seguito fino alla fine.